Ancora contagi di ritorno nell'Aretino, sei i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. Nell'elenco un giovane di 20 anni di Cavriglia, tornato da Corfu come una diciottenne di Monte San Savino, una donna di 38 anni di Arezzo, riduce invece da un viaggio in Romania ed un 29enne di Poppi, rientrato dall'Albania. A contrarre il virus poi un sessantenne cortonese ed un 36enne di Castiglion Fiorentino, rientrato dalla Francia. come annunciato dallo stesso primo cittadino tramite i canali social. Di rientro per motivi di lavoro da un paese europeo si è correttamente sottoposto ai controlli sierologici ed è risultato positivo al Covid-19, benché asintomatico. Sottolineo l'importanza dei controlli mai come adesso, in questo momento, per tutti coloro che rientrano dall'estero per motivi di lavoro o di vacanze, perché rappresentano la maggior parte dei casi di contagio che la nostra azienda sud-est in questo momento sta registrando. I nuovi casi sono tutti paucisintomatici o asintomatici già in isolamento domiciliare. Il Dipartimento di Prevenzione dell'Asla, in considerazione dei casi emersi, ha inoltre incrementato l'attività di tracciamento dei contatti stretti, attività che ha evidenziato ad oggi 17 contatti in totale, i quali sono stati immediatamente posti in isolamento. Sono tutti soggetti asintomatici sottopossi a tampone in attesa dei risultati.